Bene, rieccoci qua con il nostro ordinamento Vediamo di finire subito subito Di capire come funziona Quindi stavamo dicendo la J In questo momento vale 3 Quindi sta puntando a questa cella qui Però abbiamo appena fatto lo scambio Quindi vedete che il 10 è passato nella prima posizione E l'11 invece è qui Quindi poi c'è la J che passa a 4 La J passa a 4 e punta qui Bet di I è sempre la prima cella Quindi sempre 10 in questo caso E viene fatto il confronto tra bet di I e bet di J Bet di J Che J vale 4 Quindi stiamo sull'ultimo elemento del nostro vettore E quindi viene fatto lo scambio Perché 10 è maggiore del nostro 4 Quindi alla fine della prima passata Il risultato è questo qui Quindi poi che succede? La I viene incrementata E passa a 1 Ok? Quindi la nostra J Ripartirà da I Quindi da 1 stavolta Perché viene rieseguito questo ciclo Quindi questo ciclo reinizializza la nostra J Perché va appunto a rieseguire dall'inizio Quest'altro ciclo che ci sta dentro Quindi vengono rieffettuati tutti i passaggi Vediamo un po' Quindi la prima cella adesso E' quella che guarda caso ragazzi Contiene il numero minore Non è proprio un caso E' già fatto apposta Quindi vi faccio vedere che A ogni passata Ogni volta che la nostra I viene incrementata Il numero che I numeri più piccoli Si accumuleranno qua Infatti alla fine di questa passata Dovremmo avere il 10 qui Andiamo a vedere se è vero Quindi che succede? La I parte da 1 Quindi vet di I Si riferisce al 55 E mentre la J parte da 1 Quindi vabbè Viene fatto il confronto con se stesso Quindi la J Quindi stiamo confrontando 55 con se stesso 55 non è maggiore di 55 Quindi si passa direttamente al secondo ciclo Di questa J E viene fatto il confronto con il 23 55 è maggiore di 23? Certo che si Quindi lo faccio qua E ci scrivo 4 23 55 11 10 La J viene incrementata E viene fatto il confronto quindi tra 23 e 11 23 è maggiore di 11? Certo che si Quindi qui abbiamo 4 11 55 23 E 10 La J viene incrementata e passa a 4 Viene fatto il confronto tra VET di I che sarebbe 11 E VET di J che sarebbe 10 10 è minore di 4 E come vi avevo detto io Qua abbiamo il 10 Qua abbiamo il 55 Qua il 23 E qua l'11 Siccome la J è arrivata a 4 Questa condizione Verrebbe Adesso viene incrementata ancora Passa a 5 E questa condizione non è più valida Quindi questo ciclo Finisce E quindi si va Qui dentro Si ritorna qui dentro E quindi la I viene incrementata Quindi adesso la I vale 2 E la J viene reinizializzata ad I Quindi anche la J varrà 2 Quindi stiamo puntando a questa cella Sia I che J Viene fatto il confronto 55 con se stesso E quindi non succede niente La J viene incrementata A questo punto ragazzi io direi Invece di mettere I Qua ci mettiamo il più 1 Così viene evitato sempre il confronto del numero con se stesso Quindi La J viene incrementata Fatemi pensare Quindi sta puntando a questa cella qui Mentre la I punta a questa cella qui Quindi che succede? Riescriviamo intanto il resto 55 poi E' maggiore di 23 Si Quindi si scambiano Dopodichè la J viene incrementata La I punta a questa cella La J punta a questa 23 è maggiore di 11 Quindi abbiamo 4 10 11 55 23 L'ultimo passaggio E' quello più semplice Perché abbiamo diciamo Un solo confronto da fare Quindi la I viene incrementata ancora Passa a 3 J parte da I più 1 Quindi parte da 4 Quindi la I sta puntando a questa cella 0, 1, 2, 3 La J sta puntando a questa Quindi che succede? Succede che Il 55 è maggiore del 23 Come dice il nostro confronto E quindi abbiamo 4 10 11 23 E 55 4, 11 Quindi già in questo momento Il vettore è ordinato La J passa a 5 Quindi questa condizione non è più valida Si esce dal ciclo E la I passa a 4 Perché viene incrementata Però è ancora valido Quindi dobbiamo Siccome il vettore ormai a questo punto Non dovrebbe essere più toccato Perché è tutto ordinato Anzi rischiamo di avere degli errori Quindi qui non dobbiamo mettere Vett.lent Ma vett.lent Meno 1 Quindi ci fermiamo Quando la I arriva a 4 E non come la J Che deve arrivare a 5 Perché questo? Perché la J sarà sempre di 1 Avanti alla I Quindi se la D Arriva a 4 La J Vedete che rimane a 5 E quindi Perché partendo dai più 1 4 più 1 fa 5 Quindi verrebbe confrontato Vett di 4 Che sarebbe l'ultimo elemento Con Vett di J Quindi Vett di 5 Che non esiste E quindi rischiamo di avere degli errori Quindi se la J Scusatemi Parte dai più 1 Dobbiamo fare in modo Che la I Si fermi alla penultima posizione Del nostro vettore Perché se la I si ferma qua La J arriverà fino a qui E quindi verrà fatto comunque Il confronto Su tutto il vettore Quindi ragazzi Questo qua era il nostro test Come vedete Funziona perfettamente Io ora riavvio il programma E guardate un po' Lui mi da esattamente Lo stesso risultato 4, 10, 11, 23, 55 Avendo tolto Diciamo Il fatto che La J era uguale Semplicemente ad I Quindi abbiamo messo J uguale a I più 1 Abbiamo risparmiato Ogni volta Un confronto Su tutti i numeri Diciamo Cioè sulla stessa posizione Perché Se J partiva Da I Quindi dalla stessa posizione Di I Veniva fatto un confronto In più inutile Di un numero con se stesso Che ovviamente Non poteva mai essere Vero Perché un numero Non può mai essere Maggiore di se stesso Ma al massimo Può essere uguale Anzi è uguale E quindi diciamo Abbiamo risparmiato tempo Giusto per dire Un paio di cose tecniche Questo algoritmo Quindi questo ordinamento Ha come complessità Per chi se ne intende Quindi complessità computazionale N al N Quindi È appunto Un algoritmo lineare Quindi Diciamo che Questi calcoli Vengono fatti Diciamo Se abbiamo 5 elementi Abbiamo 25 passaggi Perché sono due cicli Uno dentro l'altro Quindi Se sono 5 Se questo lo eseguiamo Per 5 volte E ogni volta Che eseguiamo Quella Il ciclo Cioè E ogni volta Che eseguiamo Una di quelle 5 volte Ci sono altri 5 passaggi Qua dentro Quindi La cosa diventa Appunto Quadratica Non lineare Come ho detto prima Ho detto una cavolata Scusatemi Ma vi ripeto Prima mattina Mi sono appena svegliato Quindi Mollo anche io Gli strafalcioni Quindi Questo algoritmo Diciamo Prevederebbe Dato che è il vettore Di 5 elementi 25 passaggi Massimo Per ordinarlo Tutto Quindi 25 Passate Vedremo che ci sono Algoritmi Come per esempio Bubble sort Che invece Possono essere ottimizzati Per avere una Complessità Non proprio quadratica Ma diciamo Più bassa Ok Quello più veloce Di tutti E il quick sort Che è un algoritmo Diciamo ormai Standardizzato Quindi Diciamo che Ci sono funzioni Già pronte Che ci permettono Di utilizzare il quick sort Però Non so se lo vedremo Perché non l'ho mai usato In C sharp Comunque Dipende sempre Da quello che dovete fare Se dovete ordinare Un vettore Con pochi elementi Anche Un ordinamento Così lineare Va bene Non è Chissà Quale grande spreco Voglio dire Ok Direi che per questo video Ragazzi è tutto Ci possiamo fermare qui Abbiamo visto che Funziona tutto quanto Quindi direi che Dobbiamo essere contenti Ci fermiamo qui E ci vediamo Nel prossimo video A presto